Furto ai servizi sociali del comune di Nettuno, rubato il pc con i dati sensibili. Coronavirus, ad Anzio i casi positivi scendono a 60, a Nettuno nessun nuovo contagio. Prevenzione incendi boschivi, il sindaco di Nettuno firma l'ordinanza. La draga arriva al porto di Anzio, al via il ripascimento delle spiagge di Ponente. Anzio, comunicati i dati del comune sugli interventi covid a sostegno delle famiglie. Screening e tamponi ai senza tetto, ci pensa la comunità di Sant'Egidio. Salve amici di Niantv e ben ritrovati con l'edizione locale del Tg. Andiamo subito a vedere le notizie. Brutta sorpresa agli uffici dei servizi sociali del comune di Nettuno, dove è stato rubato un computer contenente dei dati sensibili. Brutta sorpresa ieri mattina presso gli uffici dei servizi sociali del comune di Nettuno. I gnoti sono entrati nella sede di Via della Vittoria ed hanno portato via un solo computer. Si tratta del PC in uso ad una dipendente amministrativa che di recente ha vinto il concorso in un altro comune e avrebbe dovuto relazionare per il passaggio di consegne. Nel PC i dati sensibili degli utenti e i dati sui bandi di gara del dedicato settore sociale. I ladri hanno ripulito la stanza, buttato a terra qualche pratica in altre due stanze e sono andati via. Sull'episodio indagano le forze di polizia. Parliamo dell'emergenza covid. Il totale degli attualmente positivi al coronavirus ad Anzio scende a 60, mentre a Nettuno scende a 65. L'ASL Roma 6 comunica che nella giornata odierna i cittadini attualmente positivi al coronavirus ad Anzio sono diminuiti a 60 rispetto ai 75 della settimana scorsa, con 16 ricoverati presso strutture ospedaliere rispetto ai 19 della settimana precedente. A Nettuno, conferma di un miglioramento per quanto riguarda la situazione pandemica, non si registrano nuovi casi di coronavirus. Gli attualmente positivi sono 65, di cui 9 ospedalizzati. Il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola ha firmato l'ordinanza per prevenire l'insorgere di incendi boschivi. Il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021 ordina di vietare in tutto il territorio comunale tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di vietare nelle zone boscate e cespugliate in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli e incolti lo svolgimento di azioni che possano generare pericolo, anche immediato, di incendio, di stabilire il divieto assoluto durante il periodo a rischio di incendio, di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, di vietare nel periodo a massimo rischio incendi boschivi di usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altre operazioni che possano arrecare pericolo di incendio, salvo alcuni casi di deroga. Tutti gli enti e i privati possessori, a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi in ogni modo alla fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, devono eseguire alcuni interventi preventivi. È arrivata al porto di Anzio l'imbarcazione Draga, che da oggi inizierà i lavori per il ripascimento delle spiagge. Vediamo il servizio di Ilaria Pirri. Ci troviamo al porto di Anzio, dove ieri è arrivata l'imbarcazione Draga, che si occuperà del ripascimento delle spiagge del litorale. In particolare ad essere interessate dall'intervento sono quelle spiagge che si trovano tra la villa di Nerone, il lato nord, ed Anzio Colonia, all'altezza dello stabilimento balneare di Lidogarda. In particolare a seguire da vicino tutto l'iter e tutti i numerosi adempimenti per arrivare in porto, il consigliere comunale di Anzio, Massimiliano Marigliani, delegato del sindaco di Anzio Candido De Angelis. Lo scopo è quello di rifare, di risistemare quello che è il litorale di Anzio. In particolare vediamo che il consigliere Marigliani ha dichiarato che finalmente la Draga è in porto, è stato un lungo e complicato percorso, ma siamo riusciti con un positivo lavoro di squadra ad avviare l'atteso intervento. Nei prossimi 20-30 giorni saranno movimentati dal canale di accesso circa 20.000 metri cubi di materiale sabbioso che ci consentiranno di limitare l'erosione di un tratto di costa e di rendere sicura la navigazione in ingresso ed in uscita dell'area portuale. La Draga rilascerà la sabbia a circa due metri di profondità per evitare il danneggiamento della falesia, un intervento che appunto ha visto anche la collaborazione dell'ufficio circondariale marittimo e la Regione Lazio, ma anche la Capodanzio. Da Anzio per oggi è tutto, linea allo studio. Parliamo ancora di Anzio. Sono stati resi noti dal Comune i numeri ufficiali degli aiuti forniti per far fronte all'emergenza economica causata dalla pandemia. Da inizio pandemia, con le misure 1, 2 e 3 tra fondi comunali, statali e regionali dal Comune di Anzio, sono stati accreditati sui conti correnti delle famiglie bisognose 785.800 euro che hanno dato una risposta concreta al fabbisogno primario di 1.688 beneficiari. A tutto questo si aggiungono 331.900 euro di buoni spesa che tramite le tessere sanitarie sono stati accreditati a ben 700 beneficiari. Ad oggi, come amministrazione, abbiamo distribuito anche 1.433 pacchi alimentari con prodotti di prima necessità per famiglie e minori ai quali si sono aggiunte numerose errate destinate alle parrocchie ed alcune realtà territoriali impegnate attivamente nell'emergenza economica. Inoltre, sono stati conferiti 166.961,21 euro di sostegno all'allocazione, dei quali hanno usufruito 278 beneficiari. Sono i numeri ufficiali resi noti dall'assessore alle politiche sociali dell'amministrazione De Angelis, Veglia Fontana, relativi al grande lavoro portato avanti insieme agli uffici comunali per far fronte all'emergenza economica causata dalla pandemia. Al momento, complessivamente ad Anzio, sono stati erogati circa 1.300.000 euro di fondi sociali Covid. La comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con la farmacia 5 Miglia e l'associazione Rotary Club, effettueranno tamponi e screening gratuiti alle persone in difficoltà. La comunità di Sant'Egidio, di Anzio e Nettuno, con sede operativa nella proprietà messa a disposizione dalla Diocesi di Albano in via dell'Oratorio di Santa Rita 2, Potere San Giuseppe, in collaborazione con la farmacia 5 Miglia e l'associazione Rotary Club, sta effettuando diverse iniziative destinate alle persone senza dimora dei territori di Anzio e Nettuno e zone limitrofe. Con la farmacia 5 Miglia, in particolare con il dottor Gaetano Mauro e tutto lo staff infermieristico, formato da ragazzi molto sensibili alle esigenze degli amici senza dimora, ma anche grazie alla generosa disponibilità del dottor Kalahed Abdallat, si sono svolte già attività completamente gratuite riguardante tamponi, screening per la prevenzione delle malattie metaboliche e si svolgeranno in particolare per il prossimo 16 giugno attività di esecuzione di elettrocardiogrammi. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi rimando alle prossime edizioni del nostro TG Locale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.